A tutte le beduine, a tutti i mollucchi umani, a tutte le unità, a tutti i mammalucchi, a tutti i beduine, a tutti i mollucchi umani. Ma se grido gratto come nell'altro microfono da Zora? No. No. Non gratto? No, anzi. Ragazzi sperate che io stasera non rapisco ceduzzo, perché oggi posso urlare. Lo devasto, giuro. Se mi inizia a dire, ma gliel'ho detto! Dai, fai un test, Lu, fai un test. Che devo fare? Ma gliel'ho detto! Ma gliel'ho detto! Eh, no, io... Lu, Valmo faccia ceduzzo e tu fai Ettore. Valmo non fa più l'inter, perché il microfono non si sente più, mi sa. No, no, ti sentiamo. Tra uno scoppiattamento e l'altro. Vai, vai. Ma gliel'ho detto! No. Gliel'ho detto prima! No. Ma puoi ripetere la domanda? No. Ah, quanti baci ho dato! Ma gliel'ho detto prima! No. Ma gliel'ho detto! No. Eh, vabbè. Vabbè, sei parecchio grintoso, quindi, oggi. Dai, ci divertiamo. Grazie, grazie, grazie. Ma te l'ho già detto! Grazie, grazie. Grazie. 1080, dovete aggiornare. Mi prendo un occhio, eh. Ragazzi, si schiatta di caldo. Oh, come droppe the frames on Drusk? Come, scusa? Perché sto droppando? Ah, Valorant. Valmo, ti giuro, mi stai proprio stordendo. Eh, mi muto, ragazzi. Ciao. E' fegno che una volta ci dì. Ah, chi? Mi stai stordendo? Cioè, Luke ha la sensibilità delle orecchie dei macachi, praticamente. Sento ogni minima cosa, è assurdo. Eh, lo sai che... Vabbè, Valmo, ma tu veramente sembri che stiamo fatti la seconda guerra mondiale con quel microfono. Eh, dai, su. Ma mi dici quando ti arriva? Venerdì dovrebbe arrivare. Stai in Lombardia. Eh, Luke, portaglielo tu. Oh, cazzo. Eh, dai, Luke. Raga, io volevo giocare a 5M. Eh, mutati. Eh, Luke. Ma a me sono bloccati gli spettatori, non me li aggiorna. Yo, che ho? Io vedo 1116. 1116. A me si è buggato, a me lì c'è 128. Vabbè, raga, avete con di riso? Andiamo, dai. Eh, dai, su, vado. La spedizione si accasirate d'Adda. Vado, ciao, mi mutax. Ciao. Ciao. Ora chiedo. No, no, tranquillo, ragazzi. Oddio, sbocca, ti. Ti cazzo che sta parlando? Salve. Chi è? Eh, chi è? Ciao. Chi è? Ah, sei scemo. Ah, capo, scusi, me non l'ho ricorrecito. Buonasera. Vado anch'io ad essermi così felice. Buonasera, dai, dai, dai. Andiamo a lavorare. Eh, signore, io mi assento qualche minuto che... Ma che fatti colarmi in mano? Che è successo? È arrivata a cena. È praticamente un'auto ci ha bloccato la strada. E poi c'erano delle persone che ci osservavano da quel monte là, prima. Proprio 20 minuti fa circa. Siamo andati a vedere. Sì, due persone. L'abbiamo viste io e Ivan. Altri vichinghi? Eh, sì. Allora, hai sentito? Ma che cazzo fa? Devo andare all'ospedale, ma che cazzo fa? Sto a posto. Dai, venga, capo. Ma sei mai schiacciato? Ma se non ti ho toccato. Devo andare all'ospedale, non ho parole, guarda. Portate il capo all'ospedale, ragazzi. Avete sentito Tony? No, non ancora. Ha già preso i soldi da quell'altro? Non lo so. Andiamo... Non credo. Dai, chiamatelo. Signore, mi ha sento 5 minuti. Sì. Ciao. Chiamate. Io la sento con la voce un po' più sex. Meglio o peggio? Meglio. Allora. Oggi si grida, ma oggi non tocca! Ah, ho capito, ho capito. Puoi gridare. Oddio. Ma si sente la voce pulita? Sì, sì. Ma gratto quando urlo? Un colpo? È normale, pochissimo. Ma non come prima. No, non come prima. Prima proprio... Perdevi, perdeva la voce. Vai, 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 vai. Corro, corro. Vai all'ospedale, potrei morire. Lo sai che ci ha appena fermato una Giulia e ci ha bloccato la strada qua? Ci stavano inseguendo. Ma una Giulia? Ma non è una Giulia e una Mercedes che rompe i coglioni? Di me. Una Giulia e una Mercedes. Sì, ma sono toni che viene dalle giungle lì? Eh, ci hanno bloccato letteralmente la strada. Giulia e Mercedes. Sì, sì, erano in sette. Cerchiamo di scoprire chi sono. Eh, non lo so. Eh, ma forse... Salve, salve. dell'Alfa. No, è che non lo suono tutti e... Non so che dicono che non c'è. No, ragazzi, non mi dite che mi si è abbassato ancora l'audio ogni volta. Salve. Non mi dite che quando Urdo mi si abbassa l'audio... Non le fa male. Ricominciamo con sta cosa, eh. Signore? Mi si è abbassato l'audio, ragazzi. Signore? È un attimo. Signore? Come cazzo era? Amputiamo una gamba. Mi sta facendo rincolonire questo che parla, madonna. Facciamo di... Una lavanda gastrica. Un elettroshock, va bene. No, l'hai ringraziato. Venga, signore, che le faccio la fattura. Sì, grazie. Il signore, che gli è successo? Vabbè. Audio e non me lo apre. Nel dubbio, antidolorifico, antinfiammatorio e plasma. Oh, questi non parlano mai. Ora che devo stare zitti parlano, assurdo, eh. Poi se muore per i mix di farmaci. Grazie mille. Colpietà. Livelli, 87. Blah! Si è abbassato, ok. No, un elettroshock, la vecchia maniera. Blah! Ok. Nell'ospedale perdono la lingua. Blah! 67. Blah! No, funziona, ragazzi, dai. Oh, laia. La posso fare. Ah, eccomi. Ah, salve. Che problema ha? Cazzi miei. Vabbè, io le ho fatto un antidolorifico, un antinfiammatorio e del Plasil. Cioè, secondo lei vengo all'ospedale per fare il puzzle? Il Plasil è un farmaco. Eh. Mica il puzzle. È che devo fare? Il puzzle di una pastiglia? Non è una pastiglia. Tiè, non lo so che non lo so. Oddio, ma Chuck ha superato Chip. Che è successo? Di due susvs. Venga, le faccio la fattura. Ecco lei. Salve, dove le fa male? Amputiamo? No, ma sono un coglione, ho chiuso la mia live. Doviamo mettere una protesi? No, 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 no. No, sì, sono un coglione. Ma no, ma ce n'è di gente coglione al mondo, ma come me, ragazzi, è difficilissimo. Ah, che buono. Trovarli coglioni come me è difficilissimo, guarda. Le metto dell'Asonil e le mettono anche una borsa del ghiaccio. Ragazzi, non mi ha scritto. Non mi ha scritto, cioè non c'è. No, no, stia qui, stia qui. Due giorni. Non è meglio si può rialzare. Che manchi. Ma io so che le live le sta facendo, però, ragazzi. Ieri l'ho vista in live. O io, o l'altro, no, ieri. Era in live che guardava le mie clip, mi sembra. Ma com'è l'agga? E le metto anche qualche benda. Sì, è vero, sta laggando, ragazzi. Sta laggando, non capisco perché. Non capisco perché, sta laggando. Scusi. Faccio un attimo spi di testa. Scusi, signore. Faccio un attimo spi di testa. Ho fatto, eh, signore. Grazie, grazie. Ok, venga. Ok. Che succede? Arrivato a te, a super scrivere. 3d ping. 900 mega in app, in download. Vediamo l'upload. No, non dipende da me. O dipende da Twitch. O devo cambiare server? 200 in download, no, niente. Niente, ragazzi, devo riavviare la live. Non capisco perché. Riavvio. Ai, 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 ai. Non capisco perché. 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 Grazie a tutti.